Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di ASMR, ma non perché girerò un video in ASMR, ma per spiegarvi in che cosa consistono i video ASMR, una moda che sta dilagando letteralmente su YouTube e sul web negli ultimi mesi. Cercherò di spiegarvi che cosa sono i video ASMR utilizzando un linguaggio il più semplice possibile. La prima volta che ho visto un video ASMR ho pensato che il nome derivasse dalla tecnica di registrazione del video stesso, ma in realtà non è proprio così. Ma che cosa in realtà vuol dire la sigla ASMR? La sigla ASMR è semplicemente un acronimo, ovvero l'unione di più lettere iniziali delle singole parole riferite alla sigla stessa che vengono messe insieme. Quindi ASMR sta per Autonomous Sensory Meridian Response, ovvero risposta sensoriale apicale autonoma. Sinceramente detta così è un po' difficile da capire, cercherò di tradurre un po' in parole semplici. La sigla ASMR non si riferisce alla tecnica di registrazione del video, ma semplicemente ha un comportamento del proprio corpo in risposta a un certo tipo di stimolo. Quindi quando noi guardiamo un video ASMR il nostro organismo reagisce in una determinata maniera che ora vi spiegherò. Il video ASMR consiste in un video che fa ascoltare e vedere la persona che gira il video stesso e che produce tutta una serie di suoni e di rumori che producono uno stato di rilassamento da parte della persona. In particolare nella parte posteriore della testa, nella zona alta, quando una persona ascolta un video o meglio ancora un suono ASMR, comincia a percepire una sorta di formicolio che poi piano a piano si propaga in tutto il corpo, inducendo una sorta di benessere fisico. Ne consegue quindi un rilassamento progressivo che alla fine porta ad aumentare il livello di sonno. Ecco quindi che molti video ASMR che sono presenti su YouTube vengono intitolati video che ti fanno dormire, suoni che ti fanno addormentare, proprio perché c'è questo rilassamento progressivo che porta alla fine a indurre ad uno stato di sonnolenza. I suoni ASMR, è giusto e corretto chiamarli così, vengono girati nella maniera più disparata possibile. Vengono utilizzati gli oggetti più disparati, per esempio lo strofinare la mano sul dead cut, cioè sul paravento, viene percepito come un suono graffiato e registrato in quanto tale e questo induce il rilassamento che vi dicevo poc'anzi. Oppure un altro esempio, si prende il telefonino e si battono le unghie, che io non ho ovviamente, sul vetro, producendo un suono di tipo ASMR. Oppure un altro esempio è lo schioccare le dita in maniera sequenziale, così produce anche qui un suono di tipo ASMR. Generalmente chi gira un video ASMR parla a voce molto bassa, perché la voce molto bassa è una voce di tipo tranquillizzante o addirittura non si parla proprio durante la registrazione di un video ASMR, proprio per far ascoltare esclusivamente i suoni generati in qualsiasi maniera. Ma che cosa occorre per girare un video ASMR? Parlo ovviamente del tipo di attrezzatura. Ovviamente se si devono ascoltare questi suoni che sono spesso a volume molto basso, occorre registrarli in un ambiente sicuramente privo di rumori, dove non ci sono rumori di fondo. Infatti viene utilizzato un microfono che riesce a registrare e a percepire questi suoni in maniera molto molto sensibile. Girare un video ASMR apparentemente è molto facile, ma in realtà non è proprio così. Durante un video ASMR noi vediamo tutta questa serie di suoni in maniera ripetuta, ma dietro questo tipo di registrazione c'è una preparazione abbastanza approfondita, perché gli oggetti che vengono utilizzati per produrre il suono ASMR devono essere ovviamente preparati. Quando avremo tutte le clip che contengono i suoni ASMR, le andremo a montare con un qualsiasi programma di video editing. Una nota particolare ovviamente la merita il microfono che andremo ad utilizzare per registrare un suono ASMR. Da quello che ho visto, quelli più maggiormente utilizzati sono il Blue Yeti che ha paravento sul microfono stesso, che spesso viene graffiato dall'operatore che registra il video ASMR, oppure un registratore vocale di tipo digitale che registra la traccia audio a parte, come per esempio lo Zoom H4n. Alternativamente, quando saremo diventati bravi nel gestire e registrare un video di tipo ASMR, si possono prendere anche due o più microfoni di tipo direzionale per registrare il suono ASMR e quindi dare una percezione di direzionalità, quindi provenire il suono da direzioni diverse, che aumenta ancora di più il coinvolgimento e quindi lo stato di rilassamento da parte di chi lo ascolta. Una menzione su tutti per quanto riguarda quest'ultimo tipo di tecnica di registrazione, la merita il canale di Zak Choi. Zak Choi credo che sia un ragazzo giapponese che vive negli Stati Uniti in particolare a Los Angeles e che gira suoni ASMR di cucina. Lui utilizza dei microfoni direzionali posti ovviamente davanti a lui che non si vedono, che puntano a lui stesso e questi microfoni riescono a percepire anche il masticare della bocca quando lui mangia un qualcosa. Oppure per esempio lui ha l'abitudine di versare la Sprite in un bicchiere di ghiaccio e i microfoni riescono ad amplificare il rumore della Sprite quando tocca il ghiaccio. Questa è una cosa veramente fantastica. Parlo ovviamente della tecnica di registrazione, non di certo per quello che mangia lui. Bene ragazzi, spero di essere stato chiaro e di aver chiarito in maniera approfondita e altrettanto semplice che cosa sono i video ASMR. Se questo video vi è piaciuto condividetelo il più possibile su tutti i social, ma soprattutto per potermi sostenere iscrivetevi al canale e mettete un bel like al video stesso. Noi ci vediamo ad un prossimo video.